Pandemia, guerra, prezzo della benzina alle stelle, non sono certo momenti facili quelli che stiamo vivendo. Tra i settori più colpiti c'è senza dubbio quello dell'autotrasporto, che ha mostrato, nell'usato, un anno di crescita quasi ininterrotta dei prezzi. Non ci sono più mezzi, spiega Mauro Gringhelli, segretario dell'Associazione di Categoria ASEA. Se da un lato ordinare oggi un mezzo nuovo significa riceverlo tra mesi, dall'altro i mezzi usati sono praticamente introvabili. Intanto c'è carenza, carenza soprattutto di mezzi, oltre che di trasportatori, e quindi insomma diventa anche molto difficile in questo momento acquistare dei nuovi mezzi per lavorare. Sì, anche qua purtroppo la situazione non è cambiata, ripetiamo le cose dei mesi scorsi, carenza di veicoli, tempi di consegna addirittura non segnalati sui contatti, perché non c'è più neanche la possibilità di sapere quando un veicolo può arrivare, veicoli che devono arrivare da mesi e che sono ancora in attesa, e mancanza di conducenti, anche qua un'altra nota dolente, per cui l'unica cosa che non manca in questo momento è il lavoro, però diventa difficile farlo perché senza veicoli, senza conducenti, con i costi che chiaramente sono cresciuti in maniera esponenziale, diventa veramente complicato tutto. E anche il mercato dell'usato è ormai una giungla, perché i costi anche per acquistare un mezzo usato sono veramente elevati. Il mercato usato è finito, non c'è più, perché chiaramente le aziende si sono indirizzate anche su questi tipi di veicoli, sono andati anche all'estero a recuperare veicoli, chiaramente con dei costi anche rilevanti, dove si avvicinavano quasi al nuovo, ma in questo momento anche andare a cercare un veicolo usato diventa veramente un'impresa, per cui speriamo che queste situazioni migliori, ma le previsioni non sono delle migliori.